Ben ritrovati Ottoliner, buonasera, di nuovo con noi Roberto Lampa che appunto ci aveva insomma istruito per bene quando appunto a ridosso delle elezioni di Milei in Argentina avevamo parlato di dedollarizzazione, di dollarizzazione, non di dedollarizzazione, c'è questo lapsus piccolo lapsus e Roberto insegna storia del pensiero economico e storia dell'economia all'università di Macerata e però è un profondo conoscitore dell'Argentina dove ha vissuto a lungo e dove continua ad avere ampi rapporti e quindi diciamo l'idea era quella dopo un mese di governo Milei e soprattutto dopo che Milei è diventata un po' questa superstar dell'alt-right internazionale con la sua splendida performance al forum di Davos dove veramente ci ha fatto abbastanza ridere e fare un po' un bilancio di quello che è successo magari proprio anche di quanto insomma la connessione tra questa narrazione grande narrazione gli va concesso che ha tirato fuori nell'ambito del forum di Davos e quello che poi concretamente sta facendo in casa quindi ti do la prima domanda non è una domanda e semplicemente faccio un po' il punto diciamo un mese dopo rispetto alle cose che ci eravamo detti l'ultima volta Beh direi per il momento si potrebbe dire sempre rispettosamente perché la situazione era gravissima e continua ad esserlo però molto rumore per nulla in che senso nel senso che qui ed oggi ciò che va sottolineato è la sonora sconfitta di Milei che è cosa di questa settimana che va detto aveva iniziato con una chiara volontà io direi eversiva perfino dell'ordine democratico perché presentava un decreto omnibus fatto mai successo nella storia democratica argentina approvato il quale un numero imprecisato c'è chi sostiene 350 chi sostiene fossero di più di leggi sarebbe stato o abrogato o completamente snaturato voi capite che quando si parla di limiti al decreto questo concetto esiste un po' in tutti gli ordinamenti e qui siamo già nella fantascienza quindi lì erano suonati anche legittimamente gli allarmi rossi di tutti gli osservatori internazionali preoccupati per l'argentina va detto però che Milei se ne va mesto mesto e con le pive nel sacco a casa con un magrissimo risultato perché? Perché alla fine questo papocchio si fa il che va detto è comunque un precedente abbastanza grave ma ed è un ma grande come una casa come si dice le mie parti tutta la parte fiscale viene cancellata perché? Perché così i governatori che esprimono sia alla Camera che al Senato una cospicua pattuglia di deputati e senatori lo hanno bloccato quindi la prima cosa che va detta è che Milei qui ed oggi porta a casa un primo clamoroso dato l'intento rovoante di sovvertire tutto di andare con la motosega è un clamoroso autogol ha generato enormi aspettative pensate che questo decreto conteneva una cosa folle cioè il Parlamento avrebbe delegato a lui nella prima stesura per tutta la durata della legislatura il potere legislativo su tutta una serie di questioni cruciali praticamente si sarebbe autoesautorato ecco tutto questo non è accaduto sbraitami lei frasi senza senso bisogna anche capire però il perché io mettevo in guardia sul fatto che come sempre accade sull'Argentina tu prima hai citato il fatto che io sono legato a quel paese sono legato a quel paese direi anche e soprattutto perché lì ho svolto per quasi dieci anni la mia attività di ricerca e di docenza presso Università Nazionali e presso il CONISET che è il loro CNR e lì mi occupavo di temi economici correnti il ritorno in Italia ha coinciso con un ritorno un po' alle origini quindi il cambio di settore disciplinare ma insomma queste questioni non interessano chi ci ascolta lo dico per dire che ho dovuto in vita mia misurarmi seriamente con un paese molto complesso come l'Argentina e quando questa complessità mi rendo conto è anche un ostacolo forte per chi ci si avvicina da fuori però viene sempre piegata per le schermaglie interne ritengo sia dannoso e sia anche particolarmente fastidioso cioè io vedo tantissimi colleghi sul più importante dei giornali economici quindi Twitter perché se un economista non sta su Twitter oggi X insomma ci siamo capiti non è nessuno poi a Twitter va affiancato un blog con foto rigorosamente in bianco e nero parlo del vademecum dell'economista di nuova generazione e negli hobby, una sezione hobby in cui si fa trekking in montagna con la famiglia sorridente questo per dire, permettetemi di essere un po' caustico sullo stato antropologico ma direi perfino psicologico dei miei colleghi ma questo è allora quando si fa analisi su queste basi poi si fanno danni cioè continuare a etichettare mille di anarcho-capitalismo quando è un esempio da manuale del cialtrone argentino una figura famosa insomma è il Cianta il cialtrone argentino quello che le spara grosse il bomba direbbero a Firenze anche un personaggio simpatico ma un personaggio folcloristico a mezzo governo di Macri a partire dal ministro economia io voglio capire in che cosa il famoso ministro famigerato ministro Caputo possa essere paragonato a un anarcho-capitalista l'establishment internazionale al contrario ha voluto proprio per tenere a freno al pazzarello un ministro economia che è un uomo rispettato pensate un po' voi perfino come si merita il rispetto in questo mondo bizzarro a Wall Street e quindi in ultima istanza una figura di garanzia per la complessa ristrutturazione del debito argentino che è ancora lì quindi in realtà noi osserviamo questo personaggio ripeto tipico argentino non ha nulla di nuovo ma come hanno fatto gli argentini ma basta salire in un taxi basta con basta cioè mi lei ne trovi quanti ne vuoi la novità che sta lì al potere no? dopodiché però bisogna chiedersi quanto potere lui gestisce cioè se io mi metto nei panni dell'avvocato del diavolo tutto ciò che è stato fatto finora è un'enorme svalutazione che era la richiesta che il Fondo Monetario Internazionale veniva facendo da due anni a questa parte quindi si sta rompendo le regole si va verso l'anarcocapitalismo o si sta semplicemente in maniera ligia e senza tanti fronzoli come è tipico delle destre latinoamericane applicando il programma del fondo cioè su queste questioni bisogna essere precisi perché altrimenti si fa il gioco di millei se noi lo dipingiamo come il discolo antisistema nemico dell'establishment anarchocapitalista noi gettiamo milioni di simpatizzanti tra le braccia di millei perché voi capite a me uomo della strada mi fa talmente tanto ribrezzo che ne so la presidentessa non inteso in quanto tale ma in ciò che rappresenta dell'FMI che se voi mi dite che millei è contro l'FMI io so con millei e quando in realtà è vero l'esatto contrario cioè il fondo monetario è il soggetto finora più tranquillo che ci sia le sue preoccupazioni quotidiane le esterna sull'Ucraina come avrete letto e non nomina più l'Argentina principale principale suo debitore da settimana da quando c'è millei allora noi su queste cose dobbiamo stare attenti direi quando si comunica e quando si fa analisi altrimenti insisto rischiamo di far sembrare millei quell'antisistema che poi nella confusione moderna diventa tutto un calderone in cui ci si mette dentro vaccini questione ucraina compagnia cantando e quindi millei è il ribelle e l'establishment lo vuole far fuori no nessun establishment lo vuole far fuori perché lui è l'establishment da quanto tempo in Argentina i governatori hanno un potere d'agenda sul governo da che esiste l'Argentina cioè si sono scannati dietro questa questione unionisti contro federali scannati cioè un massacro e alla fine hanno vinto i federali e quindi è un paese federale e quindi ti siedi col governatore in dolorose negoziazioni e concessioni per lo più economiche e io ti faccio votare in Senato altrimenti non ti faccio votare e allora o fai un colpo di stato militare cosa che è successa nella storia argentina o altrimenti negozi o altrimenti ti perdi come ha fatto Milei e quindi questa è la prima cosa secondo me che va sottolineata che questo fanfarone questo Cianta ha un nome specifico Cianta nella regione Rioplatense che è una diciamo deriva dagli italiani Ciantapuffi in Genovese Cialtrone eccetera eccetera ecco è Milei quindi possiamo continuare a ridere delle sue motoseghe dei suoi peraltro adoro Mastiff inglesi clonati ecco c'è anche questo aspetto possiamo ridere sulla si mormora diciamo così promiscuità della relazione con sua sorella e lì già andiamo su una sfera piuttosto delicata ma rilevare quando invece siamo seri che questa roboante trasformazione dell'Argentina questo rullo compressore era in realtà inceppato e si è inceppato alla prima occasione che significa significa che l'Argentina è ancora dentro una crisi terribile però significa che qui ed oggi siamo tipicamente all'interno di un programma si chiama insomma adjustment del fondo monetario che cosa ce lo indica insisto la brutale svalutazione del peso ha avuto questo si va detto ci puoi dare qualche cifra ce la puoi quantificare un po' allora è difficile perché il tasso di cambio era segmentato quindi dipende da dove noi collochiamo la misura iniziale tasso di cambio segmentato che significa per le imprese per tutta una serie di soggetti importatori e registrati presso l'Agenzia delle Entrate Argentine che si chiama FIP era sensibilmente più basso che per l'uomo della strada che voleva viaggiare all'estero e chiedeva dei dollari ma insomma se prendiamo quello ufficiale è stata una svalutazione di circa il 70% e un aumento del tipo di cambio invece è molto superiore insomma ampiamente superiore al 100% questo in un paese come l'Argentina è studiato ci sono insomma molti paper su questa aspetto uno perfino della Banca Centrale Europea del 2007 si trasmette completamente a prezzi cioè questo gli economisti lo chiamano l'effetto pass through un parolone per dire quanto di una svalutazione si trasmette a prezzi nel caso argentino per il bimonetarismo che esiste nel paese è 100% e quindi c'è stata questa fiammata inflazionaria 30% 30% di inflazione su base annuale solo a dicembre su base accumulata diciamo e più o meno lo stesso 30% a gennaio una caduta brutale brutale dei redditi voi capite e un inizio a grandi falcate della recessione ovviamente per essere seri la recessione si certifica con due trimestri consecutivi col segno o meno davanti al pile quindi non dobbiamo buttare lì buttà da casacci ma ci sono tutti gli indizi per una importante recessione nell'immediato c'è una caduta del prodotto allora questo è ciò che il fondo veniva chiedendo corregimi se sbaglio Roberto in particolare delle PMI no? quello è tipico quello tutto ciò che dipende dal mercato interno è il primo a soccombere quando ci sono queste fiammate inflazionarie no? perché in realtà chi ha le grandi corporation diciamo il capitale internazionale che è quello che fa la voce diciamo più forte sia in industria che nell'agricoltura hanno ampia possibilità di autofinanziamento no? invece ovviamente il canale del credito quando ci sono queste fiammate si chiude completamente e le piccole e medie imprese anticipano la caduta di domanda interna che verrà tirando i remi in barca smettendo di investire smettendo di produrre perché sanno che con quel tipo di svalutazione tempo poco nessuno chiederà più niente nessuno consumerà più niente quindi è il precipitare capite dell'attività economica la strategia che qui viene usata uno direbbe ma questa allora è una buona strategia anti-inflazionaria il paradosso è che non lo è cioè il paradosso è che l'inflazione peggiora attraverso il canale cambiario che è la principale causa dell'inflazione argentina ripeto economia bimonetaria ma cade drammaticamente il livello di attività economica inizia una recessione e quindi cosa sta succedendo e questo è un fatto importante perché incentiva il governo argentino a insistere su questa strada succede che si sono accumulati già ben 6 miliardi di dollari di riserve internazionali questo ci dà l'idea di quanto è stato brutale lo shock cambiario l'argentina sta esportando di più ma manco per niente che vuoi esportare tutto ciò che esporta dipende dalla domanda estera voi non vedete in giro paesi che crescono forte quindi tutto ciò che si domandava prima si continua a domandare adesso ciò che è crollato drammaticamente è stato invece il livello delle importazioni e soprattutto la possibilità io direi sul mercato cambiario di accedere ai dollari perché sono talmente cari oggi i dollari in argentina per una persona che guadagna pesos argentini che sia con il canale legale che con il canale illegale la loro domanda è caduta drasticamente cioè quando i pesos non mi bastano per arrivare alla fine del mese penso a mangiare non penso a comprarmi dollari per difendermi dall'inflazione quindi è uno spezzare le reni se volete ai piccoli medi risparmiatori argentini lascia tutto sommato al riparo le grandi imprese per i motivi che vi dicevo per le quali anzi c'è una pagina vergognosa che si sta scrivendo ma anche qui per l'ennesima volta in argentina si stanno convertendo in pesos i loro debiti esteri del settore privato in dollari quindi c'è una socializzazione delle perdite di queste imprese che cosa era successo che nella fase finale del governo di alberto fernandez si era arrivati proprio a proibire le operazioni cambiari per le importazioni per la proprio mancanza cronica di dollari che rischiava di portare a un default quindi queste imprese venivano comunque importando ma non avendo autorizzate le operazioni di compravendita in dollari accumulavano debiti verso l'estero questo stock di debiti rilevante è stato portato in pesos attraverso un buono emesso dalla banca centrale argentina e quindi lo Stato si fa carico dei debiti esteri del settore privato anche qui l'ennesima volta che succede forse avrete sentito nominare il mega canche il mega canche era stato questo ai massimi livelli alla fine della convertibilità di Menem e quindi ripeto io non vedo elementi di sostanziale novità c'è stata la volontà di fare la voce grossa di minacciare fuoco e fiamme dobbiamo anche però chiederci se non era in fondo già in partenza la volontà di sparare altissimo per portare a casa qualcosa sapendo in partenza che o si andava alla sovversione dell'ordine democratico o non c'era modo di far approvare questo decreto omnibus fra l'altro il puro opaco e a dir poco diciamo sistema giudiziario argentino si accingeva si accinge già a discutere due appunto richieste di giudizio per anticostituzionalità di questo mega decreto una presentata dal principale sindacato argentino la SECET e l'altro invece dai governatori quindi voglio dire che andasse a finire male era ovvio ma il fatto che appunto la cosa si stia gestendo così ci deve anche far riflettere su qual è la forza di Milley cioè quella di vendersi come un discolo un ribelle quando in realtà come è stato definito in un celebre faccia a faccia televisivo dalla candidata della sinistra Miriam Bregman è un gattito mimosso del potere un gattino che fa le fusa al potere non certo un leone che rugisce e questo si conferma poi ovviamente c'è tutto un uso insisto sbagliato del caso argentino che fa sempre audience all'estero e quindi ad esempio uno deve leggere sul Corriere della Sera sui nostri media perché è importante perché può succedere anche da noi un Milley come se fosse una specie di virus questo secondo me è l'approccio sbagliato perché se il Corriere della Sera ti critica probabilmente ci sono milioni di italiani a cui fai istintivamente simpatia invece siccome c'è stata anche una grossa mobilitazione c'è stato uno sciopero generale quanto ha influito anche sulla bocciatura dell'omnibus sulle negoziazioni perché appunto l'hai messa tutta sul piano istituzionale governatori Milley invece ha giocato una parte anche questa mobilitazione e questa mobilitazione cosa ci dice della società argentina nel senso comunque c'è ancora la capacità di organizzarsi oppure è un fuoco fatuo no allora quella c'è allora lì la cosa è un po' complessa il sindacalismo argentino è sostanzialmente non voglio usare espressioni troppo offensive ma tra le espressioni parzialmente offensive magari sceglietene una cioè il sindacalismo argentino è la destra destra del movimento peronista no il sindacalismo argentino è quello che si fa carico negli anni 70 di uccidere parlo della triple A no alianza anticomunista argentina i militanti di sinistra e i militanti peronisti che volevano una specie di svolta a sinistra è un animale molto complesso è un sindacalismo che può coniugare diciamo aspetti di come posso dire negoziazione a priori che possono ricondurre alla cisla italiana diciamo moderato quindi in quel senso però altri elementi di radicalità nell'uso ad esempio abbastanza spregiudicato della forza cioè non è che uno piglia e va a reprimere una manifestazione della secrete così ecco perché poi storicamente non parlo dell'oggi sono scappate fuori le pistole in 448 cioè è gente anche un po' bruttina da starci molto attento questo per rispondere alla tua domanda lì è un'altra battaglia che si giocava non tanto la parte economica del decreto omnibus ma la parte poliziesca questa iattura di Patrizia Burric che non so da noi chi non so mi viene in mente chi è qualcuno che da una vita in Parlamento ha girato tutti i partiti non c'è modo di mandarla a casa forse non c'è più nemmeno da noi sta figura mitologica un tempo era Mastella ora non più Casini Casini è uno che c'è di record cioè lei ha girato tutti i partiti ha iniziato probabilmente anche come spiona nei Montoneros quindi nella guerriglia peronista di sinistra poi è passata agli antiperonisti quindi la cosiddetta alianza il governo di Della Rua e come ministra del welfare ha massacrato i pensionati cioè gli ha tagliato dall'oggi al domani le pensioni del 30% così noi ci lamentiamo del prelievo amato nei conti correnti ma questo altro che il prelievo amato nei conti correnti insomma e poi addirittura alla destra liberaloide del PRO di Maurizio Macri ha fatto una campagna elettorale imbarazzante con temi di ultradestra ma non avendo la credibilità di Milei cioè nella denuncia alla casta Milei è credibile perché non è stato mai parte della casta figlia mia sono 30 anni 35 campi di politica ma come puoi pensare di essere credibile su quel terreno e quindi non è neanche andata al ballottaggio però poi ha fatto l'accordo al ballottaggio pro Milei e si è portato a casa questo ministero della sicurità quindi ministro della sicurezza che è un ibrido una specie di scorporamento perché poi il ministro dell'interno esiste ad un altro quindi queste boutade lei diceva impediremo le marce impediremo di tagliare le strade lei dall'oggi al domani voleva fare come negli Stati Uniti dove appunto in una manifestazione parlo di ciò che conosco io ci ho vissuto e sono andato alle prime manifestazioni di Occupy Wall Street ho avuto la fortuna di essere in quei periodi effettivamente se scendi dal marciapiede ti mettono nemmeno le manette ma le fascette di plastica e ti portano via lei pensava che fosse una boutade e questa invece è stata una prova di forza della secrete di dirle guarda sostanzialmente noi facciamo ciò che vogliamo attenta a te perché non c'è polizia non c'è niente che a noi ci ferma e questo è se tu vuoi un elemento di forza del sindacato dov'è che il sindacato è molto molto però più fragile e Milè infatti sta cercando di fare un'offensiva lì e dove è probabile anche che il sindacato venga ricondotto a più miti consigli sulla sua enorme cassaforte che lo Stato gli permette di avere che sono le cosiddette obra socialis cioè le casse mutue quelle che di Vittorio sindacalista vera vero ha fatto abolire ma che casse mutue vogliamo il sistema sanitario nazionale non è che perché uno fa il medico o il professionista o il dirigente ha diritto a migliori prestazioni sanitarie è quello che fa il muratore a livelli minimi di assistenza queste erano le casse mutue in Argentina invece ancora il sistema dominante sono le casse mutue chi le gestisce però la cassetta del tesoro è i sindacati quindi lì c'è un problema i sindacati sono titolari di ospedali di attività economiche importanti redditizi remunerative perché appunto contano su cospicui sussidi da parte dello Stato lì c'è un nervo scoperto lì c'è la capacità di milei di disciplinarli molto più che le butade di una Patrizia Burris che appunto predica mano dura e poi alla prima occasione si trova una marcia 350.000 non dico tutti ma almeno 50.000 energumeni per disperdere la quale probabilmente serviva un paio di battaglioni dell'esercito argentino altro che la polizia perché penso che quel giorno se c'era un metal detector per le armi impazziva diciamo lo dico senza celebrare è quello che è cioè gli scontri armati tra fazioni sindacali o tra tifoserie di calcio perché i sindacati gestiscono anche le barra bravas se volete semplificare l'equivalente dei nostri ultra per fortuna noi ancora non siamo arrivati a quei livelli diciamo di contiguità col potere e coi traffici illeciti ci arriveremo probabilmente se continuiamo così però appunto ha uno zoccolo duro una manovalanza veramente brutta ecco considerate che il poliziotto argentino tendenzialmente è impreparato ci sono enormi problemi di corruzione a parte la polizia argentina quindi nel governo del territorio incline ad accordi anche con chi ruba con chi spaccia purché lasci una parte in commissariato non è proprio il profilo di una polizia efficiente per reprimere invece molto diverso è appunto l'aspetto dei sussidi alle casse mutue e quel tesoretto che gestiscono i sindacati perché lì sì c'è spazio per milei per ridurli a più miti consigli fra l'altro va detto che durante il governo Macri la Secretaria aveva sempre accompagnato i provvedimenti anche più controversi discutibili quindi io penso anche lì che quello che si sia voluto porre è un limite a certe modalità cioè a milei è stato detto tu non devi rompere con la liturgia della politica argentina puoi fare le cose probabilmente molte te le possiamo anche lasciar fare ma ti siedi qui e parli con noi dove il sedersi implica ripeto portare con sé la borsa del denaro in senso metaforico e non solo negoziare Gabri se vuoi più sulla ripercussione geopolitica di questo primo mese per quanto riguarda la questione Malvinas nel senso che ieri lei ha rilasciato una dichiarazione a Wall Street Journal dove i punti importanti erano due uno sulla dollarizzazione che diceva andremo avanti e un altro era sulle Malvinas dove diceva avremo un confronto come degli adulti quindi probabilmente facendo riferimento insomma agli episodi precedenti e si sta riaprendo quel teatro gli Stati Uniti hanno diciamo vista anche ad esempio lo strappo con i Bricks non è entrato nei Bricks a inizio gennaio gli Stati Uniti stanno pensando di riaprire quel teatro ma allora lì è un po' complessa la cosa nel senso che è emotiva perfino irrazionale l'approccio della società argentina verso le Malvinas io capisco il valore sentimentale capisco la guerra capisco il sangue versato l'umiliazione ricevuta quindi insomma dobbiamo però noi che non siamo argentini cercare di ragionare un po' più con la mente fredda cioè lì ci abbiamo da un lato l'imperialismo britannico anacronistico quanto si vuole però che ancora dura a morire se uno lo prende per quel lato il tema delle Malvinas non esiste è ovvio che in quanto tale è qualcosa di inaccettabile che va risolto nell'ottica della commissione per esempio delle Nazioni Unite per la decolonizzazione cioè in quell'ottica lì se però entra nel merito qualcuno su paradossale dibattito in seno alle istituzioni internazionali che si è dato vede come gli argomenti argentini non sono stati mai questi ma siano stati piuttosto bizzarri e fallaci uno è che non esistono possedimenti stranieri nella piattaforma continentale americana falso c'è l'isola di San Lorenzo che è francese la vedete anche in Peaky Blinders se qualcuno vede la serie secondo che siccome era dell'impero spagnolo e noi ci siamo allontanati dall'impero spagnolo ma ne siamo in qualche modo legittimi eredi c'eravamo prima noi di voi ma che razze di argomenti sono stiamo criticando l'imperialismo e usi l'imperialismo quindi qual è il punto che dalla sciagurata dittatura militare dall'imbarazzante discorso di Galtieri che disse gli daremo guerra agli inglesi si preparino a combattere infatti lo so preparate hanno sfondato diciamo anzi non hanno neanche infierito se noi pensiamo a una guerra che si svolge a 500 km dalle coste argentine la prima cosa che uno non si aspetta è che bombardi le infrastrutture della costa argentina li lasci senza approvvigionamento la guerra è finita invece la costa argentina non viene sfiorata al territorio continentale argentino quindi la Thatcher su pressioni americane che vedeva bene la dittatura militare argentina ci andò leggera non la voglio prendere troppo da lontano ti voglio dire c'è molta irrazionalità e c'è una parte della società argentina che rifiuta questa irrazionalità non è trasversale è tendenzialmente la parte di centrodestra la parte che ha più studiato i ceti professionisti che dicono ma insomma che ci lamentiamo a questa Thatcher andrebbe fatto un monumento perché ci ha liberato dai militari argentini ci aspettavamo gli argentini quelli erano ancora in piazza ad applaudire i galtieri questo è il ragionamento della destra argentina quindi questo va capito che c'è una frattura in seno alla società argentina sul tema delle malvinas tutto ciò che è peronismo è assolutamente impossibile io dicessi queste cose in argentina mi starebbero linciando ok anche gente mite anche gente che uno pensa assennata impazzisce vede è come il toro che vede rosso e invece la destra argentina ha denti stretti direi centrodestra la destra argentina ha sempre avuto questa posizione l'idea che noi non siamo capaci dicono di garantire un minimo essenziale per i nostri 47 milioni di abitanti perché dovremmo andare a rovinare la vita pure di quei kelpers che vivono sulle isole ma cioè attenzione io non dico uno e due abbia ragione dico che c'è divisione molta più di quanto si pensa Miley in questo senso ha fatto una cosa abbastanza spregiudicata perché in realtà i colloqui con Cameron attuale ministro di estri inglese sono spingersi un po' oltre questo aspetto cioè io penso che lui sia disperatamente alla ricerca di appoggi internazionali per il suo progetto di dollarizzazione che però è un'anatra zoppa io dicevo prima si sono accumulati importanti livelli di riserve in appena due mesi e allora magari voi avreste potuto dirmi beh questo significa che si avanza a grandi falcate verso la dollarizzazione è sì e no nel senso se ci dimentichiamo di tutti i miliardi di dollari che c'è da restituire all'FMI sì però perché dimenticarci quindi per quanto uno accumuli qui ed oggi quei soldi sono soldi che andranno a ripagare il debito con l'FMI e difficilmente puoi permetterti di accumularne così tanti così da liquidare le tue quote verso l'FMI e allo stesso tempo gestire una complicatissima dollarizzazione della tua economia io ci vedo piuttosto la classica rapina ai danni diciamo della diligenza dello Stato anche questa tipica dei cicli di destra della società argentina e delle fasi recessive in cui nel mirino ci sono le azioni e sono molte dell'ANSES che è la loro INPS che sono statali diciamo di proprietà dell'ANSES però le azioni sono azioni finanziarie asset molte volte anche in dollari diciamo quindi quello è nel mirino anche di investitori internazionali perché poi ci vuole un portafoglio robusto per accedere a quello IPF per il momento è stata stracciata dal decreto omnibus la sua privatizzazione però attenzione che ci sono tante altre compagnie cosiddette minori dello Stato che invece fanno anch'esse gola agli investitori internazionali Elon Musk Elon Musk diciamo per esempio è sul punto di comprare ARSAT la società di satelliti argentina l'argentina è uno degli otto paesi al mondo che costruisce e gestisce satelliti in orbita ma soprattutto è un punto dal quale si possono mandare satelliti in orbita non sono poi molti punti nel mondo e quindi Star Stream è pronta e diciamo si frega le mani per comprarsi ARSAT quindi invece che radicarsi in Sud America comprare direttamente un'infrastruttura esistente con la quale diffondersi nel mercato sudamericano quindi rispondendoti io ci vedo in questi gesti anche spregiudicati la volontà di aprirsi agli investitori internazionali perché per il progetto di Millet quello che manca è che qualcuno lo finanzi sui mercati internazionali ecco in quel senso è abbastanza spregiudicato da fare anche concessioni sulle Malvinas perché no se è a cambio di finanziamenti sui mercati internazionali quindi possibilità di dollarizzare e ripeto tutto sommato poggiando su di un'opinione pubblica quella della centrodestra e destra della classe media e medio alta che è abbastanza insofferente sul tema di Malvinas diciamo perché la vede come un eccesso di nazionalismo un eccesso di provincialismo loro amano dipingersi come uomini e donne di mondo che vanno all'estero eccetera quindi non vogliono scontrarsi col mondo sviluppato men che meno con l'Inghilterra che nel ranking delle etnie superiori che gli argentini sono soliti fare occupa un punto altissimo cioè meglio un inglese solo un tedesco e poi adesso stanno di moda i norvegesi finlandesi ma è la top 3 diciamo ecco la cosa migliore che ti può succedere è essere discendente di un tedesco o di un inglese e sono paradossi e cose bizzarre del mondo postcoloniale però anche quelle vanno capite e Gabri volevi chiedere del Brasile Cina tutto e chiudiamo chiudiamo con questo ok volevo fare una domanda per quanto riguarda l'import-export nel senso che Milei sempre in campagna elettorale aveva detto ah non faremo più affari con i paesi comunisti quindi in sostanza faceva riferimento al Brasile di Lula e alla Cina poi su questa cosa è rapidamente tornato indietro perché un po' perché gli serviva l'appoggio dei moderati del centrodestra un po' perché gli imprenditori esportano soglie e quant'altro il Brasile è il primo partner commerciale la Cina è il secondo però insomma comunque degli strappi poi li sta facendo nel senso che appunto nei BRICS non è entrato questo ha avuto delle ripercussioni anche sui finanziamenti che la Cina forniva all'Argentina quindi la domanda che ti vorrei fare è proprio di carattere un po' più tecnico secondo te è verosimile immaginare una traiettoria di allontanamento non tanto dal Brasile per vicinanza geografica quanto dalla Cina da un punto di vista commerciale di rimpiazzarla ad esempio con gli Stati Uniti ma allora lì è complesso nel senso dimmi ciò che produci e ti dirò a chi può esportare se tu produci soia e fra l'altro ripeto neanche riuscendo ad aggregare un minimo di valore aggiunto che ne so olio di soia direttamente soia i tuoi clienti sono letteralmente non metaforicamente i maiali cinesi che di soia si nutrono cioè nemmeno i cinesi i maiali cinesi con chi li soppianti gli Stati Uniti hanno un'agricoltura fortemente protetta difficilmente si può pensare su quella scala su quell'ordine di grandezze grandezze molto grandi di soppiantare la produzione statunitense nazionale con merci importate dall'Argentina sarebbe uno scossone che agiterebbe il settore agrario statunitense e provocherebbe gravi danni quindi la vedo molto difficile io credo che necessariamente ci sarà bisogno di fare i conti con la Cina in quanto ricettore dei prodotti argentini molto più complesso invece l'aspetto geopolitico dove la volontà di Milei è quella però appunto in virtù della necessità di esportare verso la Cina io credo dovrà andare con i piedi di piombo oltretutto la Cina ha prestato dei soldi interessanti all'Argentina recentemente ne ha evitato il default quindi non è neanche saggio visto che si ha una disperata ricerca di fondi per rimpinguare le riserve andare ad uno scontro non è saggio perché poi quei soldi io potrei volerli indietro e forzarti a un default ad esempio quindi la questione ripeto da quel puntista è complesso certamente esiste questa volontà io credo che per portarla coerentemente a termine a Milei servirebbero dieci anni e speriamo di no il sostanziale successo del suo strampalato programma questa è la questione ora scommettere però sul successo inteso in quei termini inteso in un programma capace di generare ampi consensi in una società sfibrata come quella argentina in cui non è retorico dire che la fame la fa sempre più da padrone e qui ad oggi è difficile insomma poi la storia a volte ti sorprende oltretutto mettiamoci nei panni di un'amministrazione statunitense che oggi come oggi non è credibile per nessuno insomma adesso leggevo oggi Blinken e dice l'Ucraina entrerà nella Nato figlio mio se vince Trump hai voglia te qui è la stessa cosa per quanto possano venire dichiarazioni incoraggianti vai avanti milei da parte di Washington poi c'è da fare i conti con quella che sarà l'amministrazione Trump che potrebbe magari esasperare nella sua sfida alla Cina certi tipi di alleanze ad esempio con milei oppure più realisticamente dire come ha fatto in fondo l'altra volta più che metterci una parola buona con l'FMI noi non riteniamo di fare l'altra volta Trump ha avuto un ruolo importante nel permettere questo prestito enorme a vantaggio di Maurizio Macri però di nuovo la lettura interna argentina è che è stato a vantaggio di Maurizio Macri ma chi è però che aveva investito fortemente in questi asset speculativi e rischiava di rimanerci fregato BlackRock Cargill sempre gli stessi insomma gruppi finanziari di Wall Street e quindi anche lì è controverso dire che Trump il favore l'ha fatto a Macri sì termini politici gli ha fatto un favore ma il punto è che ha fatto ciò che è lecito aspettarsi da un'amministrazione statunitense quando si mette mano all'azione dell'FMI cioè dare garanzie ai creditori che non rimangono insolventi a maggior ragione se quei creditori sono fondi in investimento importanti statunitensi e anche lì si apre una partita tutt'altro che chiara io penso che soprattutto quello che non aiuta Milei sia la congiuntura internazionale cioè una congiuntura con grossi scossoni con tassi di crescita non così sostenuti con questioni aperte specie sul fronte delle economie emergenti e con una tendenza crescente alle misure protezionistiche quindi rischia di essere l'uomo sbagliato al momento sbagliato poi vedremo appunto ma io non mi farei appunto molte illusioni da quel punto di vista chiarissimo come sempre Roberto è stato preziosissimo per insomma dare una lettura un po' fuori da cioè un po' oltre più che altro diciamo un po' i titoloni che spesso servono più a distrarre che non a capire qualcosa ci vediamo prestissimo perché insomma l'avventura di Milei ci appassiona tutti ovviamente sicuro non ci si annoia mai in Argentina assolutamente grazie mille Roberto grazie a Gabriele grazie a tutti gli Ottoline buona serata a tutti ci vediamo presto grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti